Gli Etruschi sono una popolazione che le origini sono piuttosto incerte. Erodoto affermava che gli Etruschi avessero in qualche maniera un'origine mitologica, cioè sarebbero partiti dalle coste dell'Asia minore in seguito ad una carestia e metà della popolazione si sarebbe riversata in Italia. Questa popolazione, guidata da Tirreno, avrebbe fondato poi il nucleo originario di quelli che poi saranno gli insediamenti etruschi maggiori. Un'altra teoria è quella di Dionigi di Alicarnasso che nel primo sagolo a.C. spiega che in realtà gli Etruschi non sarebbero potuti arrivare dall'Asia minore e che avrebbero in realtà un'origine autoctona. Questa cosa viene dimostrata attraverso quelli che sono gli aspetti linguistici. Non ci sarebbero aspetti linguistici comuni per poter dire che la provenienza di questo popolo derivi in qualche maniera da un popolo originario dell'Asia minore. Livio invece ci dice che gli Etruschi sarebbero invece arrivati nel centro Italia dal nord Italia. Resta il fatto che anche oggi con tutte le conoscenze che si hanno del popolo etrusco nessuno studioso è stato capace di stabilire quale sia l'origine di questo popolo. Questo popolo ha quindi un'origine misteriosa. Non è stata ancora scoperta l'origine come per altri popoli e per ora noi ci limitiamo a dire quello che sappiamo. La civiltà etrusca comunque si afferma tra l'VIII e il VI secolo a.C. più o meno in tutta Italia. Il nucleo originario in cui gli Etruschi si sarebbero stabiliti era una zona compresa tra i fiumi Tevere e Arno e a partire dall'VIII secolo questa civiltà, questa popolazione avrebbe iniziato a espandersi sia nell'Italia centro-meridionale sia nella pianura padana. All'inizio gli Etruschi si espandono a nord e quindi più o meno in varie zone dell'attuale Emilia-Romagna andando ad inglobare praticamente la civiltà villanoviana di cui abbiamo già parlato e occupano gran parte della pianura padana. Considerate che i nuclei originari delle città di Bologna, di Mantua e Piacenza erano di fondazione etrusca. Poi gli Etruschi si rivolgono verso, insomma, iniziano a guardarsi intorno e iniziano a guardare al sud a quella Magna Grecia che ormai c'era ed era popolata da mercanti greci, da coloni greci e proprio con i greci gli Etruschi si scontreranno più volte. Vedremo però questo insieme di battaglie in seguito. I Etruschi avevano un alfabeto greco, probabilmente, o meglio, più che greco, un alfabeto che derivava in qualche maniera dal greco. Per quanto riguarda questa tipologia di alfabeto, anche qui ci sono problemi in merito ad un'attribuzione o a interpretazioni certe dell'alfabeto stesso. Perché? Perché innanzitutto abbiamo pochi elementi, abbiamo poche tracce scritte. Ciò che ci rimane degli Etruschi ha in realtà qualche iscrizione sacra, qualche formula augurale, e quindi non abbiamo nulla che ci consenta ancora di decifrare al meglio questo alfabeto. Quello che ci interessa è semplicemente che questo alfabeto quasi sicuramente deriva dal greco. Non è stato però ancora decifrato. Perché gli Etruschi si sono, insomma, sviluppati in maniera più importante rispetto agli altri popoli italici? Perché gli Etruschi sono riusciti a conquistare diverse zone d'Italia e ad espandersi? La prima ragione sta in quella che è la morfologia del territorio, in quelle che sono le caratteristiche del territorio che avevano occupato inizialmente. In parole molto semplici possiamo dire che questo territorio era comunque ricco di giacimenti minerari, sia per quel che riguarda il ferro, l'oro, l'argento, e soprattutto era ricco di legname pregiato. I giacimenti minerari hanno portato gli Etruschi ad affinare la loro tecnica di lavorazione dei metalli e a produrre anche oggetti che venivano utilizzati sia per uso quotidiano, sia oggetti per esempio per abbellire tombe, per abbellire persone, quindi anche una serie di gioielli. Il legname pregiato era importante perché con questo legname costruivano, un po' come fecero i fenici, delle navi, delle navi piuttosto agili che consentivano loro di spostarsi lungo il mar Tirreno e quindi di avviare anche una serie di contatti commerciali. Oltre alle innovazioni artigianali che sono state messe in campo per lavorare i metalli, come dicevamo prima, vengono messe in campo anche delle innovazioni di tipo agricolo. Infatti gli Etruschi riescono a mettere in piedi delle efficienti opere di canalizzazione e delle tecniche di bonifica dei territori. Riescono in questo modo quindi a sfruttare al meglio tutte le risorse che la terra gli garantiva e riescono a creare una florida agricoltura. Abbiamo già parlato di quella che era la fitta presenza all'interno del territorio di giacimenti minerari che portano assieme alle navi alla creazione di una fitta rete commerciale. Gli Etruschi riescono, come abbiamo già detto, ad avere dei fitti scambi culturali con i Greci che erano stanziati a sud. La società e l'economia etrusca. La società etrusca era divisa in due classi sociali, i liberi e gli schiavi. Al vertice della società c'era un re chiamato Lucumone. Questo re aveva pieni poteri, cioè aveva il potere legislativo, giudiziario, esecutivo. Tutti i poteri erano nelle sue mani. Era circondato però da un'assemblea di anziani, da un consiglio di anziani di estrazione aristocratica. Col tempo, come è avvenuto anche in altre civiltà, questi aristocratici hanno pian piano acquisito maggior potere. e intorno al VI secolo a.C., la monarchia viene sostituita da un governo formato da magistrati eletti annualmente e da alcune assemblee. Siamo di fatto quindi davanti a una forma di, diciamo così, di pseudo repubblica aristocratica. Tutte le città etrusche erano di fatto città-stato indipendenti, città-stato indipendenti che certe volte potevano unirsi, potevano formare delle leghe, per esempio la Dodecalopoli era una lega formata dalle 12 più importanti città etrusche, ma in realtà questa federazione, questa lega, non aveva un grande peso politico. C'era un capo alla testa della lega, ma i suoi scopi non avevano carattere né difensivo né politico, avevano semplicemente un carattere economico e religioso. Le donne avevano un ruolo piuttosto attivo all'interno della vita pubblica. Le donne etrusche, se avete modo di guardare qualche affresco relativo a dei banchetti, erano rappresentate all'interno dei banchetti insieme agli uomini. Le donne quindi partecipavano alla vita pubblica, alla vita sociale, e non vivevano chiuse in casa come tante altre donne di tante altre civiltà che abbiamo incontrato. Abbiamo detto che gli etruschi si espandono in gran parte dell'attuale pianura padana, anche in gran parte dell'Umbria e arrivano poi a scontrarsi con i greci. Si scontrano con i greci di fatto per il possesso per il dominio dei commerci nel mar Tirreno e dobbiamo ricordare due battaglie principali. Quella di Alalia del 540 a.C., che viene combattuta dagli etruschi e dai greci, e che viene vinta dagli etruschi, e quella del 474 a.C., la battaglia navale di Cuma, dove di fatto gli etruschi vengono praticamente decimati dai greci. La flotta etrusca viene praticamente quasi completamente distrutta e da quel punto in poi gli etruschi cominciano a perdere la loro capacità di influenza nell'Italia del sud. Gli etruschi riescono in qualche maniera anche a insediarsi, poi vedremo come, sul trono romano. Gli ultimi tre re che sono gli ultimi tre re di dinastia di stirpe etrusca vengono di fatto mal visti negli ambienti romani, tant'è che nel 509 a.C. c'è la cacciata dell'ultimo re etrusco da Roma e da quel punto in poi i rapporti tra Roma e gli etruschi non saranno poi così positivi. Non a caso, dopo tanti anni, Roma riuscirà nel 396 a.C. ad assediare e a espugnare la città di Veio, che di fatto era uno dei posti delle città più importanti della civiltà etrusca. Nel 91 a.C. gli etruschi ottengono la cittadinanza romana e di fatto questa azione porta gli etruschi a doversi necessariamente adattare e ad integrare in quella che è la cultura romana. Quindi eravamo partiti da una serie di circostanze favorevoli che hanno fatto sì che gli etruschi si affermassero in Italia, poi però a un certo punto il contatto con gli altri popoli porta in realtà gli etruschi a perire in qualche maniera. La religione. La religione etrusca è una religione particolare perché secondo gli etruschi le forze naturali influenzano continuamente il mondo e gli uomini. Ogni evento, ogni fenomeno della vita, anche la stessa vita delle persone, le stesse cose che accadono nella vita delle persone sono da ricondurre a un intervento della divinità. L'uomo non può quindi pregare la divinità per far sì che gli vengano concesse determinate cose. L'uomo può semplicemente cercare di capire qual è il destino che le divinità gli hanno riservato. E per farlo gli etruschi facevano insomma quelle che noi chiamiamo divinazione e aruspicina. La divinazione si tratta di un insieme di pratiche attraverso le quali si cerca di interpretare il volere degli dèi attraverso l'osservazione dei fenomeni naturali. La aruspicina invece è l'osservazione dell'interiore degli animali e in particolar modo del fegato, del fegato degli animali sacrificati, scusate, per interpretare i fenomeni di derivazione divina. Il volere degli dèi poteva anche essere interpretato studiando quindi l'interiore degli animali sacrificati. Proprio per far sì che queste interiora venissero in qualche maniera analizzate in maniera precisa, gli etruschi scrivono per esempio i libri aruspicini, oppure ancora scrivono i libri fatales. Nei libri fatales c'è scritto per esempio che l'uomo non può vivere più di 70 anni. Si parlava anche della vita nell'aldilà, si parlava anche di come interpretare varie cose, vari eventi che si verificavano. I libri fatales quindi avevano a che fare con la vita degli uomini, con la vita delle civiltà e delle città. Non c'erano soltanto però i libri fatales, ma c'erano anche tutta una serie di libri che in qualche maniera andavano a regolare tutta quella che era la vita dell'uomo etrusco. E regolavano anche la vita sociale, la vita politica e la vita religiosa. Questi libri, la maggior parte di questi libri detti libri etruschi, che erano divisi anche per esempio in Rituales e anche in Fulgurales e Aruspicini come dicevamo prima, sono importanti, questi libri sono importanti perché vengono tra l'altro tradotti anche in latino. nel primo secolo a.C. Tarquinio Prisco traduce questi libri e poi Cicerone li riprende all'interno del Dedivinazione, che è un'opera, dove di fatto mette in collegamento questi libri con dei principi filosofici che egli va a contestare. Per raccontarvi una cosa, all'interno dei libri Fatales veniva raccontato che ogni epoca aveva un suo tempo che scorreva in maniera inesorabile. Ogni epoca si succedeva ad un'altra con un termine finale che era prestabilito e soprattutto inalterabile. Per esempio, però, in alcuni casi speciali, si poteva ottenere una proroga rispetto a quello che era il momento fatale. Prima parlavamo dell'età media di un uomo, l'età media era circa 70 anni, l'uomo poteva arrivare massimo a 84 anni, secondo questi libri, cioè 12 volte il numero 7. e la vita invece degli stati poteva durare al massimo alcuni secoli e ogni secolo aveva la durata di 70 anni. Dieci secoli erano quelli che, secondo questi libri Fatales, avrebbero coperto l'esistenza della civiltà etrusca. Quindi gli etruschi, secondo questi libri, avrebbero vissuto per dieci secoli di 70 anni, quindi per 700 anni. Gli etruschi credevano che esistesse un al di là che aveva a che fare con una connessione che rimaneva tra il corpo e quella che era l'entità vitale. Subito dopo la morte, gli etruschi non credevano che ci fosse una vera e propria anima, però credevano che la vita dopo la morte, in qualche maniera, continuasse. E questa vita dopo la morte era connessa ad un'entità vitale che rimaneva in qualche maniera vicina o comunque sia collegata ai resti del defunto. Per questo motivo i defunti venivano seppelliti in delle tombe, delle tombe molto lussuose, spesso, soprattutto se si trattava di aristocratici, vi ho messo qui un'immagine, delle tombe che al loro interno contenevano tutto un corredo funebre fatto di oggetti e anche di cibo e bevande che potevano aiutare questa entità vitale a sopravvivere nell'aldilà. Quando parliamo della religione etrusca, però, dobbiamo stare attenti nel senso che la religione etrusca è in realtà, secondo recenti studi, una religione rivelata. Che vuol dire? Vuol dire che secondo insomma quella che è la leggenda, secondo quella che è la religione, che questa religione, quindi tutti i dogmi della fede, tutti i dogmi e tutte le credenze sarebbero state introdotte da un certo Tagess che sarebbe in realtà un giovane, un giovane divino che sarebbe uscito fuori da un solco tracciato con l'aratro nella terra. Tutto ciò che questo ragazzo ha raccontato sarebbe poi stato raccolto all'interno dei di vari libri sacri che sono alla base della religione etrusca. Gli etruschi tra l'altro avevano anche un pantheon, quindi tutto un insieme di divinità antropomorfe, cioè le divinità etrusche venivano rappresentate come se fossero delle persone. Molte di queste sono state introdotte a seguito dell'incontro con la cultura greca ed esisteva una triade che più o meno corrispondeva alle divinità di Zeus, Hera e Minerva. Avevano poi anche tutta una serie di altri dei, di altre divinità che si distinguevano da quelle romane. Quello che è importante però è che, ripeto, questa religione etrusca era una religione rivelata, cioè qualcuno aveva, avrebbe dettato a qualcun altro quelli che sono i fondamenti della religione.